Il pubblico deve sapere questa cosa su Amanda. Yasmin Carrisi interviene pubblicamente e svela un segreto su una delle concorrenti del Grande Fratello. La figlia di Albano e Loredana Lecciso è da sempre una fan sfegatata del programma di Alfonso Signorini. Più volte ha commentato le vicende che riguardano gli inquilini della casa più spiata d'Italia, ma stavolta è coinvolta anche dal punto di vista personale. Come sa bene il pubblico del GF, quest'anno tra i concorrenti c'è infatti anche la zia di Yasmin, Amanda Lecciso, sorella maggiore di Loredana. Amanda è entrata nella casa dopo la prima puntata, ma è riuscita a integrarsi subito con gli altri inquilini. Ad accompagnarla è stata proprio Loredana. Le due sorelle hanno raccontato al pubblico il grande legame che le unisce. Ora Yasmin ha aggiunto dei dettagli inediti sulla zia. Seguo costantemente Amanda e ormai sono diventata una sua fan. Mi manca, ma la supporterò in casa fino alla fine, ha detto Yasmin Carrisi in un'intervista a TG Com 24. Abbiamo da sempre avuto un ottimo rapporto. Quando ero piccola era molto protettiva nei miei confronti e si prendeva tanta cura di me. Ad oggi è una delle mie migliori amiche, le posso parlare di tutto e so che non mi giudicherà. Yasmin supporta la zia anche dal suo account decimo, come mostrano diversi post dedicati ad Amanda nel GF. Amanda, questa settimana, è tra i nominati e la nipote si augura che non sia lei a dover uscire. L'aleciso è al televoto insieme a Elena Prestes, Clayton Norcross, Michael Castorino, Tommaso Franchi e Giulia Bruschi. Ma oltre alla zia, Yasmin ha rivelato di avere stima anche altri favoriti, adoro Jessica, che ho avuto il piacere di conoscere perché è amica di mia sorella. Adoro Avier, sia caratterialmente che esteticamente, è oggettivamente un gran figo. Detto ciò, ho anche qualche antipatia per gente che mi sembra poco corretta e coerente. Yasmin Carrisi è stata ospite anche di RTL 102.5. Anche in radio la giovane ha parlato del grande affetto con cui segue la zia. Adesso non sono a Cellino San Marco, sono a Milano, ma è come se fossi nella casa perché seguo costantemente mia zia Amanda. Come si sta comportando? Secondo me bene. Si sta lasciando un po' l'andare. Speriamo bene, io la seguo tantissimo. Poi la figlia di Albano e Loredana Lecciso ha svelato di aver ricevuto in passato due proposte per partecipare al reality, ma di aver rifiutato. No, non c'entra il cachet, ho rifiutato perché mi faceva un po'. Paura l'idea di partecipare a un reality ed espormi così tanto. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.